Dopo quasi un mese si torna sui banchi di scuola. Il 10 marzo scorso l'entrata in vigore della zona rossa nelle province di Pesaro Urbino e Fermo, poi allargata l'intera regione, aveva chiuso anche Asilinido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole medie. Un provvedimento di chiusura che per gli istituti inferiori non si palesava dal lockdown del 2020. Domani, mercoledì 7 aprile, si ricomincia, tutti a scuola fino alla terza media. Un provvedimento che il governo Draghi avrebbe preso a prescindere dal ritorno nelle marche in zona arancione, che però diventa un lascia passare anche al ritorno sui banchi delle scuole superiori. Qui si riprende il 50% delle scuole in presenza, con l'altra metà che rimane in didattica a distanza. Ogni scuola superiore manterrà la facoltà di gestire questo dimezzamento. C'è chi conserverà le classi intere, convocando però alternativamente metà istituto, chi dimezza le classi presenti in aula. Un ritorno sui banchi che il giorno dopo sarà supportato dal terzo screening nelle scuole organizzato dal comune di Pesaro. Questa volta i tamponi si concentreranno nelle scuole medie. Saranno circa 840 gli alunni di prima media delle otto scuole della città che si sottoporranno al test rapido. In base ai consensi dei genitori, il comune è pronto ad allargare i test anche ai giorni successivi e alle restanti classi delle scuole medie.